un buongiorno a tutti di alfredo mamugheri bentrovati allora no siccome avete fatto un sacco delle richieste alfred facci un video dove ci fai vedere hai detto che tu devi dar via le chitare c'hai troppe chitare ci fai vedere che chitare c'hai quanto vuoi eccetera me l'ho stato a chiedere in troppi me l'ho stato a chiedere in troppi io purtroppo prima ho provato a fare un video con il cellulare e inquadrarne una per una però ho visto che non so perché il cellulare a certo punto si spingeva la ripresa come se mi sa che ho la memoria troppo piena sul cellulare allora sono costretto mi sono scritto tutto così potete andare su youtube o su google andare a vedere io vi dico il nome esatto di ogni chiturata andate a vedere sia come sono fatte da dove provengono a parte quello dico io da 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 quanto partono usate eh e io vedo i prezzi mia e sapete che ve le sta dando uno che è conosciuto no sarò conosciuto sarò conosciuto so uno che te vedi che ha la stazione che è lei franco sì tieni la mia chitarra mia tieni la chitarra tua ciao e non vedi più non sa in dove abita non sai niente qui stai a parlare con credo c'ho più di mille grazie a voi c'ho più di mille e cento iscritti capito non so uno che non ho allora io vi comincio a dire i nomi delle chitarre se qualcuno è interessato no ve lo dico perché c'ho talmente c'ho la cantina giù piena di chitarre tutte messe in piedi non c'ho manco più ripoggia chitarra per tenerle in piedi per quante ne sto a comprare le devo portassù farvele vedere come faccio i miei video soliti v'ho fatto vedere quattrocento chitarre diverse quattrocento chitarre diverse v'ho fatto vedere chitarre che io ho posseduto me le so suonate me le so sentite ho provato a vedere che gusto c'ha la washburn e che gusto c'ha la ibanez le fend che è che non vi ho fatto vedere che chitarra è che non vi ho fatto vedere vi ho fatto vedere chitarre jazz vi ho fatto vedere mamma mia su cinquecento video tutti i video tutte chitarre diverse e ce n'ho ancora tante altre diverse da farle vedere ma se volete iscrivete a questo canale che è gratis andate su youtube a Fredo Mamugari tutti lo dicono tutti i youtubers lo so quanti stanno a dire che palle eh lo devo dire lo sai quanti lo stanno a dire che palle eh si però lo dicono tutti i youtubers anzi manda una manina io non so capace manda una manina ti 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 iscriviti clic 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 ma una campanella clic io non so capace io so allora parliamo della prima chitarra se no non finimo più già so tre minuti ma non voglio essere lungo io vi parlo di una bella fender vuol dire poter pure far vedere un attimo aspettate eccala qua questa qui è una fender telecaster scrivete bene mn3 player fender player telecaster mn3 sunburst il colore lo vedete il colore è sunburst questa è la prima nuova di zecca mai suonata chiaramente made in messico eh ci avrà due anni chi è interessato questa è una special mn3 non è la solita telecaster made in messico attenzione ci stanno quelle che costano molto meno ecco va bene questa costa di più eh io quanto ci ho messo io la metto a 580 più le 20 euro della spedizione che mi dovete 600 euro è nuova mai suonata e questa è la prima suona da dio suona da dio suona da dio suona da dio la posso? e passiamo a un'altra chitarra molto molto importante questa è una maverick vedete si chiama mi sono scritto tutto allora bla 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 f1 scrivete così andate a vedere su youtube maverick f1 m d come domodossola e b come bologna made in corea guardate che manico che c'ha manco se vede è una sottiletta è una sottiletta altro che le ribani questa è una sottiletta sto manico poi vedete che c'ha non c'ha i bottoni che ti danno noia i bottoni l'hanno messi giù poi l'unica chitarra al mondo questa è molto rara che qui c'ha della casa non è che l'hanno fatta apposta qui c'ha al ponte un seymour duncan invader andate a vedere le recensioni e qui c'ha un di marzio cioè tu c'è una chitarra che se vuoi suono tipo santana per esempio metti su addirittura c'ha anche dei gommini qui intorno no? che non fate scivolare esagerare no? e metti il di marzio così al centro metti il di marzio col seymour dan cani invader insieme non puoi capire il suono così metti solamente il seymour dan cani invader e ripeto al proposito di invader qui non invade niente perché quando suoni vedete i bottoni i bottoni io non li becco perché stanno sotto vedete l'hanno messi all'altezza del volume proprio per non dar noia che quando suoni c'è una chitarra veramente made in corea è stupenda tutta originale ripeto con seymour duncan invader e un di marzio attenzione ecco un manico fino così maverick una famosissima brand eh per chi se ne intende ecco a quanto la metto 600 euro non di meno non di meno passiamo a questa passiamo a questa allora qui stiamo parlando c'è il sole ecco leggete un ibanez premium guardate i dot fatti a dente di squalo gialli qui c'è il sole ma anche i cappari vedete sono tutti gialli di marzio di marzio c'è scritto sopra non è che qui scherziamo è stata a parlare con Alfredo Mamucari allora vedete due un bugger e un single coil con il ponte Floyd Rose favoloso e che dirvi è indonesiana questa chitarra si chiama andate a vedere la usano i più mostri dei mostri che insegnano su youtube ho visto tantissimi con sta chitarra in realtà ragazzi forse la chitarra che io mi sento più più per me proprio mamma mia che cos'è questa chitarra che cos'è questa chitarra non lo dico per far venditore perché non sono stato mai capace comunque si chiama prendete una penna se ce l'avete perché dopo è difficile andarla a trovare si chiama ibanes premium r come roma g come genova 1 xxv trattino venticinquesimo anniversario della ibanes premium questo è del venticinquesimo anniversario è una media in indonesia che io non vendo a meno di 6,50 assolutamente va bene poi andate a vedere voi quello che vi ho detto quanto costano quanto le vendono intanto vi ripeto io vi do cose che stanno in perfetto stato cioè non c'è i tasti perfetti cioè non direte mai Alfredo mi ha dato una sola io non mi posso sfruttare ha capito il canale mio appena chitarra capito cioè che ci sono avute 700.000 andiamo avanti qui stiamo parlando attenzione di un'area di van allen di un'area di van allen che ien made in corea degli anni credo fine anni 80 i tempi di van allen perché quando è uscito van allen è da noi degli anni 80 è molto 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 bella è molto molto bella c'è una chitarra che io ho visto ma no una tante lui vabbè c'è avuto tante chitarre ripeto con le strisce bianche ne ha cambiate però poi si era data la music man la music man che è identica a questa come paletta il colore della paletta uguale al colore di qua un bottone solo proprio alla van allen i pick up bianchi e neri proprio alla van allen quel bottoncino qui sotto il ponte sotto il pick up del manico identica col floydrosi identico il colore tutto strigliato non lo vedete voi perché c'è il sole è proprio lei è proprio lei la è di van allen io ho fatto anche un video ho fatto la prima parte di jump no famosissimo brano di van allen dove lui con questa qui ci ha fatto delle cose assurde beh questa si chiama è una key yen key yen non so come si dice music man van allen si chiama proprio così andate su internet scrivete key yen music man van allen made in corea anni 80 90 quando ci stava la radio bellissima chitarra attenzione c'è due di marzio questi qui sono due di marzio non sono roba ceramica roba cilindri questa è una made in corea bene e vi dico come suona anzi andate a vedere il primo video che ho fatto è suonato con il divan allen cioè no con il divan allen con la base senza il divan allen è divan allen l'ho fatto io con questa andate a vedere l'ultimo video che ho fatto che ho fatto jump ho fatto metà brano e per voi che se 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 vi iscrivete vi vedrete anche la seconda parte dove faccio l'assolo vi insegno l'assolo delibile criminale infernale infernale che ha fatto va bene che io ve lo posso far vedere io ve lo posso far vedere allora questa chitarra stiamo parlando ragazzi tenetevi stretti lo sa quanto ve la darei 250 euro va a fare sentire guarda però vedo vorrei far sentire tutto devo andare avanti 250 ragazzi ti dà la radissima solo io la potevo da fidatevi tasti perfetti vedete qui non si gioca io quando dico le cose KN è una marca credo inglese però ha fatto costruire in Corea che bodica fa ragazzi ci fai banale tranquillo è lui è lui è lei è lei ve la posa e vado avanti qui stiamo parlando di una ibanes finalmente una eix attenzione made in Corea tasti perfetti come vi ho sempre detto vi vedete sposto pure le corde vi vedete i tasti sono perfetti però ci hanno montato 2 EMG pure al centro EMG c'è scritto non si legge perché è un po' cancellato attivi però se faccio foto se vi interessa cioè non sto a giocare ecco forse non si vede lì sotto vedete qui sotto qui c'è scritto EMG pure qui qui a sto punto qui EMG qui pure qui pure si è un po' cancellato non lo leggete però c'è scritto EMG c'è proprio il marchio per cui c'ha degli EMG attivi è made in Corea non c'è una botta non c'è un graffio che c'è scritto sulla bocca made in Corea si c'è scritto made in Corea con numero seriale vedete c'è un numero i bannets c'è un numero seriale sotto c'è scritto made in Corea e ragazzi guardate che manico che action che c'ha proprio rasa 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 che proprio la suoni da Dio poi c'è un po' poi costivi EMG attivi con sto bel è favolosa è favolosa ragazzi poi la made in Corea andate sempre sul sicuro ve lo dice a Fredo la made in Corea so chiedere quasi come quelle giapponesi ve la poso e andiamo avanti allora questa quanto ve la mettevo cioè queste so chiedere che vi dovete fare che ha altro che squaglia le cose di allora i bannets tasti nuovi e bagger attivi ah si chiama i bannets EX 370 attenzione se ve volete andare in forma meglio si chiama i bannets EX 370 ho fatto la ricerca l'ho vista con la EX grossa sopra sono le 370 con i dati si con i dati con i dot a squalo come mi piacciono a me perché quelli piccoli piccoli che ne vedi dei volte che sfuggono invece con i denti di squalo proprio mamma mia pure se sei cieco sai dove sta una perfetta ragazzi e ve la metto questa qui 300 euro 300 euro chiaramente sempre 20 euro mi dovete dar per la spedizione se ve volete ve la firmo pure dietro Alfredo Mamugari appartenuto al grande al grande Alfredo al grande Alfredo Mamugari c'è la firma dietro Alfredo Mamugari ve la firma 300 euro ma che ci comprate oggi questa è una media in Corea dell'anni che furono ma come sono guardate i tasti per questa con me andate sul sicuro cioè mi potete sputtana subito mi scrivete sotto youtube oh mi ha dato una chitarra una sola fio di una mignotta è quella che farei una figura del merda con 1100 iscritti no? ecco non ce tengo per cui stiamo a parlare di quanto? di 300 euro capito? io me ne vengo spuntanato allora passiamo avanti qui stiamo a parlare di Nales Paul stupenda Michael come vedete la firma sotto la battipena è una Michael Kelly Patriot autobloccanti vedete le meccaniche autobloccanti pezzo unico manico e body non è che è abitato chitarra stupenda guardate i dot fatti in madre perla ripeto con le meccaniche autobloccanti qui tutto attaccato una risonanza c'è sta chitarra tasti perfetti come al solito guardate sposto le corde quelle sotto quelle sopra vedete io non vedo solo i ragazzi con me non si gioca vedete i tasti come attaccata sul negozio con lo scontrino guardatela con sta chitarra a mano sa che fate potete andare con bascoli rossi potete andare con chi cacchio guardate che rifinitura la paletta intorno tutto ragazzi made in corea stupenda vediamo un po' vediamo un po' dobbiamo girar pagina dobbiamo girar pagina usate un attimo allora michael kelly si chiama scrivete 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 almeno vedete quanto costano e andate a vedere su youtube come suonano bene allora michael kelly di patrio shadow che significa ombra in inglese made in corea come avete visto tutta bella originale con le sue belle meccaniche che sono state proprio messe a punto per una perfettissima perfettissima e non si scorda nemmeno guardate potete pure ammazzare allora questa la metto solamente 290 andate al negozio andate con 290 euro sai che ti mettono un manno una square bullet va bene guardatela di nuovo appartenuta ad alfredo ma 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 mucari va bene guardate quanto è bella la prossima c'è pure il battipenna per non sottolinearla e qui ci abbiamo una square modifi modificata perché praticamente ci hanno messo sapete come solide le cast avete visto la fender c'è un piastra lunga qua e una leva che fa 1 2 3 no questa c'ha 4 bottoni attenzione c'ha 2 volumi e 2 tonne e poi c'ha 2 pin 90 di un candesign c'è una chitarra stupenda ragazzi tastiera in acero come vedete e stiamo parlando di una square telecaster custom attenzione è una made in indonesia come vedete questo è il numero seriale la riga nera dietro i 6 buchi perché se non c'è i 6 buchi una telecaster lasciata la perde ne ha comprate proprio a meno che non è quella di George Edison che purtroppo io me la sono data via quella non c'aveva i buchi dietro però come suonava quella c'hava dei pick up stupendi qui non so ti dico che chitarra comunque invece vi sto parlando di una chitarra attenzione guardatela bene non c'è un graffio non c'è niente tutta originale tastiera e nascero squire telecaster custom con i buchi passanti che danno più risonanza non c'è un graffio non c'è niente tutta originale due volumi due toni potete fare per me suoni che nemmeno immaginate poi qui avete i soliti delle le score allora questa quanto sta squadra telecaster fa 2.50 ragazzi questa 2.50 cioè questa è da telefonarmi al volo stasera subito alfred quant'è allora più 20 euro di spedizione 2.70 da me li i band se volete chitare serie poi se volete giocare è un altro discorso allora poso questa e ve ne faccio vedere l'ultima vi faccio vedere l'ultima vi faccio vedere l'ultima stiamo parlando di una eco camaro scrivete guardate quanto è bella proprio stile vintage no peccato c'è il sole però ho avuto tempo adesso c'è i P90 allora questa è una eco camaro scrivete v1 varese r poi staccato 2 trattino 90 creme il colore il colore crema perché c'è il sole purtroppo e lo stesso colore che c'è il battipena ce l'ha dietro anche è tutto classico di tutte queste di tutte queste eco camaro cioè tutte quante hanno sia il colore del body sia della paletta identico cioè se questo era nero questo era nero se questo era verde questo era verde siccome questo è crema questo voi non lo vedete ma è crema vedete non è color legno vedete è color crema proprio identico al colore del body col battipenna tartarugato una chitarra con 2 p 90 stupenda anche con la leva sentite la leva non c'ha balleggi potete dare anche su ritorna sempre accordata veramente una bellissima chitarra stile vintage veramente molto bella quando la suoni sul palco il tartarugato con la scritta ecco dietro e guardate c'ha addirittura le meccaniche le meccaniche serie le vedete non c'è le solite meccanelle eh insomma beh questa qui è l'ultima chitarra che vi presento allora questa sta sul negozio sta 2,50 io la metto 1,55 155 euro più 20 di spedizione sarebbe 175 euro che mi dovrebbe spendere e io ve la mando va bene io chiudo il video qui e spero che mi ringrazieranno sicuramente come mi mandano tutti i grazie finalmente ce l'hai fatta ecco queste chitarre io me le devo dar via perché c'ho la cantina piena che devo portare su allora queste me le sto dando via a prezzi come avete visto se andate a vedere su youtube o cioè su google vi rendete conto che poi date da me spedite da me è una garanzia sapete chi sono va bene ne potete scrivere sotto youtube oh ma mi ha mandato una chitarra insona che dire non esiste ne scriverete tutti grazie Alfredo te giuro che chitarra che mi hai dato guarda non ci credevo avevi detto che invece hai detto poco questa è proprio una favola questa me la tengo a vita pure per ricordo tuo tutte ste cazzarini direte tutte ste cose cazzate tutte no cazzate sono cose belle bene voglio voglio dei commenti se avete visto sto video e non vi comprate una chitarra non vi dico niente non vi dico niente ma se non mettete l'iscrizione sotto a sto video voi che vi piace solo a Lazio a Roma sta mannezza qua i gamer Fetel sta gente così e vedete sto video non vi iscrivete cosa che vi succede lo dico tanto ogni video ne dico niente domani andate al bar fate una figura di hai capito perché andrete con una collega al bar e quando vi versate lo zucchero educatamente nella sua tazzina voi per sbaglio prendete quella del sale ve butterete la bustina del sale nel caffè girerete e quando bevete sputerete tutto e farete una figuraccia davanti a quella che stava con voi e ricorderete non mi sono iscritto al canale Alfredo Mamucari che è gratis che è gratis bene ragazzi io vi ho detto vi ho fatto vedere le chitarie purtroppo non ve le posso far sentire una per una ma se andate a vedere i video bene o male ho suonato quasi tutto però se uno è interessato no Alfredo allora scriviamoci su Whatsapp mandami un video ma la fai senti pulita ma la fai senti va bene però non giocate se fate sul serio bene non mi fate perdere tempo io vi posso fare pure un video senti ho visto quella eco mi è piaciuta ma la fai senti evitate evitate perché ve lo dico sono perfette suonano perfettamente mi fate solo perdere tempo se ve le ho proposte vuol dire che sono perfette da prendere già settate da me proprio che manco sentite a tastiera proprio cioè vanno da sole per cui se provo a insistere io però vi posso fare dei video no no se mi sono di quella vabbè dopo alle vi faccio il video ve lo mando però lì si dovete non scrivere su Whatsapp perché poi voglio mandare su Whatsapp per cui diventa una cosa un po' io però lo faccio perché poi so chi darebbe bene o male avete visto sono non è non è a dir che ma sono non sono per cui vi lascio e se non vi iscrivete al canale io ho detto domani mattina prenderete il caffè che per sbaglio ci butta dalla bustina quella del sale ma se la bustina del sale nello zucchero non c'è mai stata ciao a tutti ciao a tutti no perché se non vi iscrivete al canale so pure affari vostri perché non è che voi non lo vi deve invece pure adesso ciao